Antonella, prima di parlare del tuo libro vuoi un po' introdurti? Beh sì, per me rapidamente, mi chiamo appunto Antonella Bruno, sono un medico, una psichiatra che vive e lavora a Avellino e che con questo libro tra l'India e via Toledo è edito dal gruppo Albatross in filo e ha la sua prima esperienza di scrittrice. Perché tra l'India e via Toledo? Perché è una breve raccolta di racconti di cui il primo ambientato per l'appunto in India, il terzo e l'ultimo ambientato a Napoli con riferimento ad alcuni luoghi molto precisi come appunto la popolarissima via Toledo. Non c'è un filo conduttore tematico per i colleghi, perlomeno non ho inteso questo nel momento in cui li ho scritti. Riflettendoci a posteriori, però almeno per i primi due, c'è Nerenicola e la viaggetrice, che hanno anche più strette somiglianze stilistiche. C'è una sorta di nodo drammatico comune, un'esperienza contrastata e sofferta dell'amore che si apre però a una possibilità di riparazione e speranza. Così Giulia, la viaggetrice, nella quale in realtà io adombro mia duplice esperienza di viaggio in una missione indiana, torna in India dove ha già adottato una bambina a distanza e ha preso a cuore le sorti anche di una sfortunata adolescente colpita dalla libra, felice e desiderosa di donarsi una breve esperienza di volontariato presso l'ospedale per le bruci della missione. Ma si trova a dover fare i conti con un qualcosa di insospettato che stende una lunga ombra su questo suo soggiorno, anche se in qualche modo riparata, ecco lo spiraglio di esperienza e di ricomposizione, dal linguaggio amoroso di piccoli gesti, di complicità, che lei comincia ad intessere proprio un ruolo di immaginazione e sofferenza come con le bruci emergenti nel reparto, in particolare con l'adolescente da lei adottata. E proprio mentre è in procinto di tornare in Italia qualcosa ancora, qualcosa di piccolo ma bello, che le succede che le consente di ripartire con l'animo finalmente ricomposto, pacificato, nei suoi conflitti, nelle sue ambivalenze. Anche il secondo racconto, Cenerentola, è in effetti una strata, una storia veda che ha al centro questa esperienza contrastata dell'amore, perché si tratta di una violenta diatriba familiare che vede impegnata Celeste con le sue sorelle maggiori e cognati in una lunga vicenda di assistenza agli anziani e ai genitori. Una lunga vicenda che io però, per potenziarne l'effetto drammatico, ho scelto di condensare in un brevissimo arco temporale di poche ore, il tempo di una veglia che trascorrerà Celeste nelle prime ore della notte, del mattino, una notte di fine dicembre, presso il cammino acceso della sua casa. Una veglia inframmizzata da ricordi, fantasia, occhi aperti, brevi e angosciati di fuggi in sogni che si tramutano in incubi, in cui lei ripercorre proprio tutta questa lunga vicenda e attraverso questa veglia, i ricordi e le fantasie che l'anano, prende corpo in uno scenario interiore in cui si agitano affetti intensi, violenti, come spesso sanno essere quelli familiari, e dei giochi di rimando proiettivo in cui chi commette il male se ne dichiara innocente e se ne tira fuori. Ci sarà anche qui uno spirale conclusivo perché Celeste avrà dalla sua una presenza amorevole, vivida, interiore, che la soccorre e la protegge. Infine di tutt'altro tono e forme volose perché no. Questo è un raccontino di una fantasia, di sapore comico-umoristico, in cui sono Antonella, parlo in prima persona, mi diverto a prendermi in giro, a rifarmi verso, sdrammatizzando un po' me stessa con un pizzico di leggerezza e senso di humor. Sono disperata per i numerosi fini che ho preso, ma non voglio affrontare dietro i sacrifici di privazione, per cui decido di lanciarmi nella conquista di un amore che deve essere però non corrisposto e quindi infelice, e quindi capace di chiudermi lo stomaco e farmi diventare senza difficoltà. Però per colmo di sventura e relazioni ai miei intenti, quest'uomo ha un modo tutto particolare di omaggiarmi, che è qualcosa di veramente dilettevole per il mio palato, ma è meno vastante per la mia linea appena già apparecchio appesantita. E così, mentre disperatamente percorro il punto di via Toledo a Napoli, cercando di arrestare in qualche modo questa escalation, mi imbatto in una sorpresa assolutamente insospettata e naturalmente non validevo per mantenere un pizzico di sapore. Focalizzandoci un attimo sulla forma letterata, ha una valentura particolare la scelta del racconto di sviato anche autore in particolare? No, non è un autore particolare, né è stata una scelta specifica di principio. Diciamo che tutto è nato con un laboratorio di scrittura comico-molistica che frequentavamo a Napoli nel 2010, un'esperienza arricchente che lasciò emergere in me, diciamo, oltre che un desiderio di scrivere, proprio una vera e propria urgenza interiore di mettere in forma pensieri e emozioni che avevano fatto a lungo parte il mio bagaglio interiore senza che neanche ne rendessi conto. Così è stato per la viaggiatrice dell'anima, dove ho voluto in qualche modo di esplorare in me stessa e liberare un rumo molto denso di luci e di ombre, di forti e contrastanti emozioni, di queste nuove esperienze di viaggio. Così anche per Cenerentola, dove ho voluto suggellare un po' di forma di testimonianza una scuola che altrimenti potrebbe veramente risultare di avere quasi dell'incredibile. Quanto a furbo rigoloso e di un vero e proprio divertimento, nell'estate del 2010, alla fine di questo laboratorio, furono invitati noi arrivi a scrivere un breve racconto di sopore comico-molistico, di quei raccontini spensierati da potersi leggere così in levasse, magari in un spiagno, sotto l'ombre d'uomo. E l'ho ambientato a Napoli per il calore, per il superare stato di Napoletanità, e ho provato si sintonizzasse bene con i toni prodigli, stanzionati di questo racconto. L'India, con i suoi profumi e i suoi colori, è il luogo del cuore di Giulia. Leggendo la teglia, la corse è anche il tuo. Come nasce questa passione? L'India nasce in assoluto come luogo della memoria, diciamo, della riparazione, per un grave lutto che mi colpì nel settembre 2004, dopo la perdita di mia madre. Qualche mese più tardi, decisi di adottare una prima distanza, ma solo a distanza di tre anni da quell'adozione, senti che era giunto finalmente il momento in cui avevo le energie sufficienti per affrontare le incognite di un viaggio in India completamente da sola per andarla a conoscere. È un angolo visuale senza dubbio molto piccolo, anche in natura molto particolare, trattandosi in una visione cristiana. Eppure però mi ha dato modo di osservare luci e rumore, tra le luci, la gentilezza, l'amitenza dei sorrisi, dei saluti, l'uso di avere un fiore tra i capelli, di un trecciare incredibili ghirlande, queste donne, la festa dei colori, luminosità dei sali, dei sud di darà. E anche un'atmosfera di spiritualità, cioè una sorta di clima favorevole all'attitudine contemplativa, che penso prescindesse dalla natura del luogo, che è una missione, ma perché fa parte proprio della tempesta in cui il popolo, naturalmente anche ombre, povertà, miseria, marginazione, misto di rassegnazione a vari livelli, dall'ignoranza del singolo, la sottimensione in caso, che è ancora attuale, sebbene formalmente abolita, all'inerzia delle autorità governative, per cui una malattia attualmente curabilissima, con la ligura, sempre vocemente diagnoschitata, però è ancora responsabile, non c'è le desiche di disabilità, della sanche, questo è un po' notoriamente tutto questo, a niente di aver sentito dire, ma vederlo proprio sotto i miei occhi, questo mix di bellezza e di atrocità, è stato un fatto che mi ha assolutamente stupito, e rimane in fondo profondamente misterioso, in realtà io ci vediamo. Tre donne sono legate con inserito ai racconti, e se dovresti raccheggiare il loro profilo, come le descriveresti? Per Giulia Antonello ho avuto a disposizione me stessa, due differenti spaccettature, in fondo, della mia personalità, le mie grani blu-arancio, dove il blu è il colore dell'attitudine meditativa, anche profonda, l'arancio dell'energia, della solità, anche dell'impulsività. Giulia è una donna meditativa, appassionata, ma anche un po' intrusiva, molto fantasiosa, lei idealizza molto, con un alto investimento emotivo, ma rischia di andare incontro a brucianti disemissioni, come succede un po' per questo luogo della memoria degli affetti che l'India è diventata nel suo cuore. Fortunatamente però, a controbilanciare i due mesi, c'è l'altra anima, con l'arancio di Antonella, una bambina irriducibile che una volta consumata la disillusione e il dolore, torna ancora con questa voglia di giocare, di mettersi in gioco e anche di prendersi un po' in giro, come appunto le forme dolose, perché no. Celeste, infine, Celeste è una donna di grande forza interiore, una forza organizzatrice, pianificatrice, che però, proprio in questa vicenda, si disvela paradossalmente in un rovescio di fragilità, nel momento in cui Celeste deve confrontarsi con un succedere di situazioni che sono a prima vista assolutamente assurdo, che non spiegabili. Tuttavia, Celeste è anche un filo in tutto, una fine capacità sensibile, analitica, che le consente di operare una ricostruzione di senso a quello che sembra insensato ed arbitrario. Ricomporre questi frammenti come tessere di un grande mosaico è un racconto dal finale aperto, come aperta è la storia da cui origina e la speranza di risoluzione, in qualche modo, di giustizia al male di gioco. In conclusione, la tua professione, quanto è la base della tua vera artistica? Indubbialmente, mi ha dato molti spunti, anche perché è un lavoro che emette continuamente, come dire, sancia continuamente la capacità di stare in contatto con le emozioni dell'altro, ma anche con le proprie emozioni. Questo mi ha aiutato a generare il profilo psicologico di Giulia, tra il quale del resto ho parlato di me, ma più ancora in un modo anche più voluto ed esplicito, mi ha aiutato a tratteggiare con i giochi di luci e di ombre di aspettative relazionali reciproche che animano queste dolorose vicissitudini familiari di Celeste, le zone in cui è confessata di un anno in cui aspetti in fondo inaccettabili del proprio sé negati dalle sorelle maggiori venivano attribuite a Celeste con il risultato poi di temere da lei con le stesse intenzionalità umane che in realtà è inconsciente originale dal proprio profondo e quindi è una vicenda che mi ha dato molto da considerare sia come amica che come psichiatra anche per alcuni risvolti stimosi che hanno riguardato ripando della protagonista è una trasposizione teatrale che sto rielaborando in questo racconto in cui riagganciando dal tempo attuale del rapporto tra psicoanalisi e neuroscienze io metto in bocca a Fidalma l'amica psichiatra di Celeste dallo spicio che un giorno con le nuove sofisticate metodologie l'indagine di defunzione del cervello si possa arrivare a delimere oltre che tra delirio vero e simulato addirittura tra delirio vero e in qualche modo imposto contro la propria volontà come è stato purtroppo in questa storia è una specie naturalmente un po' fantasitiante un po' provocatorio ma che attraverso il grottesco di intreccio teatrale vuole arrivare a rimarcare quanto si è dedicato lo studio della mente umana perché il carattere un po' sfuggente impaltabile della psiche come oggetto di studio espone a rischi di potenziali manipolazioni come è stato e in questa vicenda ringrazio per la tua disponibilità per le notizie dal territorio non dimenticate napolin.it e voxniz.it e arrivederci ai spettatori di Nanotibu